Ben ritrovati amici di Infoociletto a questo nuovo aggiornamento meteo. Dopo un lungo periodo piovoso, attualmente l'alta pressione occupa la nostra penisola, garantendo un tempo più stabile e soleggiato. Tuttavia nel corso dei prossimi giorni, lungo il bordo orientale dell'alta pressione, scorreranno delle fredde correnti settentrionali. Lo notiamo meglio da questa cartina che ci mostra i valori termici a circa 1.400 metri di quota. Notiamo l'aria decisamente più fredda in arrivo dalla Russia che coinvolgerà tutto il sud Italia, con un crollo delle temperature anche sul Cilento. Vediamo quindi cosa dobbiamo attenderci proprio sul Cilento, nel corso del weekend. Cominciamo dalla giornata di sabato, quando avremo un cielo poco parzialmente numuloso un po' ovunque. Attenzione al vento che soffierà forte dai quadranti settentrionali, con temperature indeciso calo e al di sotto della media stagionale. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domenica, sarà un'altra giornata fredda dai connotati invernali, con sostenuta ventilazione dai quadranti settentrionali. Temperature ancora al di sotto della media. Bene, con questo è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.